si è chietato il brusio nell'altra sala ciò è segno che si unificano i due convegni quello che si tiene qua e quello che si tiene là prima commentavamo che ero arrivato tardi perché stavo all'altro convegno Silvio e vengono fuori delle cose interessantissime io mi domando quali sia l'ordine del giorno del convegno di là forse affidato alla fantasia creativa in dubbia però adesso vedo che si va chietando l'altro convegno forse sono andate a far pausa e qui possiamo principiare con questo incontro con i nostri due artisti due attori tanto lasciatemi dire che mi piace questa denominazione stati generali ancorché potrebbe a qualcuno sembrare vagamente iettatoria perché andarono in modo che a tutti gli studenti di di liceo è nota ma poi tutto sommato produssero un evento storico catastrofico nel senso greco del termine della tragedia greca stati generali della cultura non è la prima volta che viene ricordato e scritto indubbiamente a sentire il retaggio di quello che è successo ieri e stamattina di questo momento del momento che sta attraversando la cultura nel nostro paese in europa e in tutto il mondo in questi frangenti credo che si sia parlato molto il fatto di convocare tre uomini di spettacolo posto che si possa ancora accettare una definizione significativa stringata tre uomini di spettacolo a parlare per 40 minuti tra di loro e per i convegni del termine cultura è una provocazione non solo accettabile ma auspicabile mi limiterò a segnalare che a guardare per pura curiosità scrutinando nei ricordi della della manuale di storia i periodi di crisi economica che sono assimilabili al nostro gravissimi quindi gravissima crisi economica hanno avuto una coincidenza hanno coinciso in maniera significativa e secondo me non senza un senso simbolico con una fecondità e una produttività culturale artistica molto significative caso coincidenza pura come dire puro sfizio dello storiografo può darsi l'altro giorno guardando l'ultima una riedizione di ad elfi del repertorio di thomas van mi sono accorto che addirittura l'ha pubblicato per la prima volta nel 1918 in germania quando la germania aveva ben altri problemi che quelli editoriali di cui occuparsi ma ma per dire la situazione invece italiana europea in questo momento mi lascia dubbioso anche per esempio per quello che riguarda la produzione di spettacoli la produzione cinematografica che vi riguarda in questo momento più da vicino perché tu sia impegnato in una bella impresa teatrale allora incontrare degli attori dei protagonisti del cinema del teatro in questo momento forse ci può dare delle indicazioni non soltanto settoriali di specificità di esercizio professionale ma generali posto che voglio accanirmi a ritenere giusta la definizione di usser della cultura come sedimento naturale dei saperi condivisi mi aggrappo disperatamente a questa definizione di comodo perché altre mi spingerebbero a insonnie insopportabili e quindi preferisco allontanarmi dalle definizioni magari più accertate domando ai nostri amici magari cominciamo con massimo la produzione artistica nell'ambito dello spettacolo soprattutto ehm riflette con quale scarto temporale se lo fa su quello che sta succedendo icc et nunc cioè ora e adesso la produzione l'ideazione la produzione di spettacolo si fa carico e come quanto e quanto sarebbe doveroso che succedesse a parer tuo io ti contesto una questione ma lo faccio in maniera provocatoria perché secondo me il dibattito forse lo aiuta e Silvio che con me condivide parecchi anni di esperienza comune nel nell'ambito della produzione spettacolare si ricorda il fatto che noi siamo nati nella crisi siamo vissuti nella crisi e conviviamo nella crisi cioè io non mi ricordo mai un momento della nostra vita artistica in cui la parola crisi non abbia fatto parte del nostro bagaglio questo parallelo per quanto riguarda strettamente il ragionamento legato alla produzione spettacolare italiana sono da quando ho cominciato a lavorare oramai sono qualche decennio io ho sempre partecipato a convegni in cui si parlava di una crisi che c'era di una crisi che dovevamo combattere di progettualità per il futuro quindi non so se questo in qualche maniera per quanto ci riguarda ci abbia aiutato a tenerci anche vivi nel senso che noi la crisi l'abbiamo sentita sulle nostre carni quando il grande cinema del passato è finito quando è nata una televisione inizialmente scomussolata che non ci ha fatto capire in che direzione per esempio andassimo no noi per anni siamo stati fuori dalla televisione il teatro è passato dall'avere una sua peculiarità ad avere momenti di crisi ad essere in uno stato di confusione tale però noi continuiamo a vivere questo stato la società fuori viveva in un'altra dimensione no parlo degli anni settanta dal terrorismo l'allegria degli anni ottanta a quella incertezza ricambio degli anni novanta al non so di oggi allora se la metto in contrapposizione con quello che è fuori certo che sento che oggi noi rispondiamo a un'esigenza in qualche maniera nel senso che forse per quello che possiamo dare attraverso tutte le operazioni poi chi vi parla io non sono i pochi insomma io sono un attore di televisione di cinema di grande intrattenimento di teatro faccio un po tutto quindi ho un po' una visione abbastanza trasversale da questo punto di vista sento che c'è da parte nostra forse anche qualche motivazione in più per andare avanti io credo che per tanto tempo noi ci siamo un po' adagiati all'interno di un sistema che continuando a parlare di crisi però alimentava economicamente la produzione spettacolare italiana e questo io non l'ho mai visto non è che lo dico oggi lo dico da anni come una situazione corretta o perlomeno secondo me certe regole che hanno sostenuto questo sistema non erano le più esatte tant'è vero che poi sono crollate miseramente nel momento in cui fusse tagli difficoltà dall'altra parte credo e penso che questo sia lo spazio dove sia giusto discutere questo anche credo martini e gli altri stimolino e abbiano lanciato l'idea di di convegni che non inter che non investano solo la responsabilità degli operatori del mondo della cultura ma della politica più in generale cioè dire che questo è un problema che non è solo produttivo ma proprio un problema di strategia e di discussione più generale della cultura in italia io quello che sento oggi come grande difficoltà è che quelli che sono qui quelli che sono riuniti in questo posto hanno mezzi e capacità per poter capire e che fuori quando parlo con la gente mi incontro con le persone che ti vanno ti chiedono dall'autografo al consiglio a che cosa fare ti accorgi che lo stato mentale culturale e di impreparazione del nostro paese è gravissimo e allora credo che per quanto noi possiamo fare e ci stiamo sforzando di dare il meglio speriamo di noi stessi in mezzo a diecimila difficoltà io credo che il vero problema sia quello di ritornare a rimborcarci le maniche in maniera non lo so pasoliana non so come io ero abituato sono un vecchio figlio di un funzionario partito che era abituato veramente a fare il porta a porta e a ricostruire un tessuto che si è strappato e non credo che sia solo i bei film che possiamo fare il bel teatro che possiamo fare la televisione più o meno intelligente che possiamo fare rispetto a tanta schifezza che viene prodotta la verità è che sento che c'è un gap fortissimo che è quello proprio culturale di impreparazione i giovani sono impreparati i giovani non sono preparati noi siamo dei signori più o meno giovani adulti che hanno mezzi e cultura per poter discutere essere d'accordo contestare il resto va ricostruito credo oggi ha una funzione più di questo tipo qua se ci riuscirà di essere noi tornare a essere più che maestri cito paolo sesto testimoni io la vorrei un po' finì con questi maestri vorrei essere nominato un bidello d'italia non maestro non so come dire cioè credo che abbiamo bisogno di figure che stiano vicino alle persone dimostrando io so fare questo io riesco a fare questo ecco è questo quello che mi accorgo non voglio darti una risposta tutta non sarei in grado ma non sono un modesto lavoratore dello spettacolo martigiano bene tu hai enumerato una serie di argomenti inanellati però in una in un filo tutto hai detto scusa se sintetizzo in maniera brutale ha detto basta da quando lavoro da quando ho dato i primi vagiti artistici non faccio che sentire parlare di crisi generalmente noi abbiamo sentito parlare soprattutto la crisi del settore quando io sentivo parlare di crisi del settore generalmente era per non darci le sovvenzioni questo era l'argomento cardine angolare che usavano questa crisi a cui io facevo riferimento come ben sai non voglio farti evidentemente ci mancherebbe lezioncine è una crisi antropologica gravissima questa qui è in discussione l'intera concezione del sistema capitalista del mondo non è che stiamo inventando e tutti quelli che con sussiego hanno spolverato la polvere dalle proprie giacche dell'ideologia così dicono condannando l'ideologia a una specie di patibolo semiotico prima ancora che politico non si sono accorti che quella ideologia di cui si stavano sbarazzando l'aveva già scritte queste cose bastava leggerle i libri per sapere quale poteva essere il destino del capitalismo c'è scritto è che c'è una carenza di lettura forse quindi la crisi che stiamo vivendo non è l'ennesima dell'arrancante società fluente che ha costruito il mondo in cui viviamo con tanta opulenza sbagliata questa è una crisi sostanziale del mondo e della concezione antropologica e politica ecco perché ti dico lo spettacolo la cultura gli stati generali della cultura si fanno carico e come la mia non è un'invettiva è una riflessione amichevole ci stiamo ci stiamo facendo penso di sì tra l'altro e mi domando quanto poi dirami da questa evidente eventuale consapevolezza nei repertori nei cartelloni nei palinsesti televisivi la pausa è voluta nei palinsesti radiofonici nelle nelle gallerie d'arte e via elencando silvio no è insomma a parte le queste tipi di situazioni mi angosciano di per sé mi ricordano quando ero ragazzino alle assemblee non riuscivo a dire neanche una parola mi riviene quel tipo di timidezza lì e compagni e compagni come dice quel quell'altro insomma sono sempre situazioni che non sono riuscito a cavalcare bene poi i temi che tu sollevi mettono in più un'angoscia particolarmente sostanziosa a cui io sinceramente personalmente individualmente non so dare risposte e anche perché si tratta di una minaccia continua di qualcosa di una catastrofe che deve accadere in attesa di questa catastrofe che ci travolgerà tutti non so tra quanto tempo più o meno che tempi sono stimati dalla catastrofe che sta per la settimana un mese per sapere come ci dobbiamo organizzare perché se proprio molto vicina andiamo in vacanza godiamoci questi quattro soldi che ci abbiamo io non ho figli tu hai figli mi dispiace per te ecco è sbagliato a fare a farli al suo tempo io sono stato avanti come sempre sono le mie cose e e quindi insomma che che dobbiamo fare che si tratta non lo so io posso nel mio minuscolo cercare di fare spettacoli e cercare di organizzarli un po bene anch'io sto facendo spettacolo in questi giorni proprio faccio un po di pubblicità per tanto finisce oggi però sono al piccolo di sesto facendo un piccolo spettacolo ma minuscolo proprio con con tre attori ero reduce da uno spettacolone gigantesco con la regia di paolo virzi con 20 attori scena una cosa mega galattica e sulla reazione di quello mi sono andato indietro a cercare un po di di purezza di quando ho cominciato a fare questo lavoro cercato di 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 individuare quella cosa lì siamo quattro in scena ma lo sono autoprodotto io è una cosa molto piccola però che parla molto direttamente e ho ho riscoperto attraverso questa cosa qui una un'esigenza di farla vera senza forme di strategie di pensare a chissà a quali a quali appunto minacce o quali pubblici vasti a cui rivolgermi sono in un teatro piccolo e da qualche altro piccolo spero di allargarmi in teatro un po più grandi però credo che questa crisi qui probabilmente è particolarmente pericolosa perché ci trova tutti un po isolati tutti singolarmente cerchiamo di guardare in faccia questo mostro che sta per arrivare però non riusciamo a a solidarizzare su questo forse la nostra generazione fa questo eh la generazione di oggi non so ecco forse è il grande fantasma di questi convegni sono proprio loro insomma quelli i trentenni i venticinquenni di oggi forse qui a legge non so se c'è stato il fantasma del non non voglio fare populismo è una cosa molto di modo però questo famoso teatro valle che è stato occupato in questi giorni non so se è entrato nel dibattito entra c'è ti sanno che sono arrivati in teatro alla scena ah no bello è che tu pensavi che applaudissero te meno male pensavi che il tuo concetto fosse stato sottolineato pensavo che stava arrivando del teatro valle invece solo bersani meno male io credo che sia una gag da riprodurre pari pari in uno spettacolo teatrale perché l'attore convinto che lo stiano applaudendo con tanta ostinazione mentre sta elencando solo delle date poi si accorge che l'applauso e al principe che è arrivato beh ecco in città goldoniana grazie per aver contribuito a questa indimenticabile gag secondo me ha trovato il tempo giusto gli stavo dicendo se si candidava alle primarie subito perché dopo questo applauso di sostegno mi ha detto che pensi è fatto è fatto è fatto allora alla faccia di uno che era timido e non sapeva parlare in pubblico però complimenti che mi perdo questa è la cosa incomincio con una cosa abbastanza precisa poi comincia a divagare comincia a parlare di mia zia di mio cognato dei problemi familiari miei per quello non potrò mai fare politica perché non sono strutturato ecco ma non è che vogliamo evidentemente nessuno da noi di noi si aspetta un intermezzo comico questo intermezzo comico io cerchiamo un po prima che arrivi intratteniamo dal salotto intratteniamo tu sei impegnato in questo momento a parlare di cultura davanti a ronconi qui sopra io non me la sento sinceramente allora facciamo una cosa io sono più provocatorio invece io me la sento per un motivo molto semplice ma non tanto perché mi sento di far parte di un corpo quest'anno peraltro ho condiviso col maestro ronconi l'inaugurazione del del festival di spoleto mi ha fatto molto piacere perché mi sono trovato e la uso come altro motivo di riflessione a presentare uno spettacolo condiviso insieme ad andrea camilleri parlando della di garibaldi sia che anni bar della sicilia ed era un motivo per parlare vedi di nuovo con la gente raccontare una storia e credo in questo come funzione anche della responsabilità che abbiamo noi comunicatori raccontavo la storia che tutti quanti voi conoscete del carteggio fra garibaldi e lincoln no adesso alzino le mani non la mano le mani chi conosce questa storia ecco parto da questo presupposto perché scoprendo questa storia su questo si è creato il motivo di fare uno spettacolo camilleri ha sposato questa questa mia sete voglia di sapere si è costruito uno spettacolo che era uno spettacolo intrattenimento in cui noi raccontavamo ad un pubblico credetemi molto vasto ovunque siamo andati una storia che non conoscevano stiamo parlando dei 150 anni d'italia nel momento in cui celebriamo i 150 anni d'italia mi sembra di essere un governatorato non lo so io la trovo un po' come una contraddizione in questo momento no posso azzardarmi segretario questa ipotesi noi stiamo mantenendo la linea però mi sembrava avrei voluto celebrare 150 anni con un'altra cosa ma insomma va bene siamo governatorati un po' dal dall'Europa ecco qualcosa mi ha riportato a riflettere su questo proprio il fatto che sento che c'è un'esigenza che noi dobbiamo far far camminare insieme cioè da una parte dobbiamo riuscire a fare informazione culturale dall'altra dobbiamo mantenere in piedi il livello di quello che abbiamo ecco perché mi permetto insieme a luca ronconi conosco da tanti anni di aver condiviso questa cosa per cui c'era luca ronconi c'è un maestro del teatro italiano dello spettacolo italiano e dall'altra parte mi mettevo nella condizione di essere un bidello che aveva però la responsabilità da comunicatore di raccontare delle storie si chiama io credo benevolenza no 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 luca mi conosce da talmente tantissimi anni avremmo avuto occasioni di lavorare non lavoreremo ma insieme ci stimiamo lo stesso non è questo il punto io voglio fare un ragionamento perché credo che la responsabilità nostra io sono uno dei fondatori del pd e non è che sto qui a fare quello che si nasconde dietro una cosa ho fatto il consigliere comunale sono stato no 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 lo dico per dirvi che non parlo tanto perché mi hanno preso e mi hanno portato qui ecco io quando parlo parlo perché mi rivolgo a un partito questo convegno del partito democratico io faccio parte del partito l'ho fondato a milano ho fatto le primarie a roma le ho vinte quindi vengo da un iter preciso per cui quando parlo qui parlo a compagni amici colleghi non so mai la formula non la capisco più ai quali mi rivolgo però questa è la mia posizione allora siccome questa è una mia posizione che porto avanti da anni c'è quello che mi sento di dire che ognuno di noi ha una fetta di responsabilità da portare avanti io mi rivolgo a milioni di persone per quello che faccio in televisione nel cinema di grande intrattenimento e a teatro e so che la gente scambia con me questo tipo di rapporto e mi chiede delle cose e sa che forza appartengo e sa chi sono questo per me è caricarmi di una responsabilità e quello che vi dico al di là dei grandi discorsi che faremo al di là di qualunque tipo di celebrazione possiamo fare che la nostra cultura deve essere fatta di informazione che parte da una base che è quella più semplice alla grandiosità del melodrama italiano mi chiesero una volta per un teatro che non ho più diretto che era il nascente teatro del quarticciolo no a scava di milano mi fecero un'intervista all'unità e mi chiese qual è il suo programma e quello mi è sembrato sintomatico ve lo racconto perché l'idea è questa che cos'è il quarticciolo a roma non so se quanti sono di roma e quanti possano conoscere il quarticciolo in una realtà dove non esiste niente aprire uno spazio significava dirgli partiamo dal teatro per le scuole e arriviamo all'opera lirica io credo che oggi la gente abbia bisogno di ricostruire questo tessuto e sei tu che devi dargli la mano per tirarlo dentro per cominciare con i bastoncini l'abecedario e poi portarlo alla magnificenza della turandot ma se non gli fai fare questo passaggio tu continui a lasciarla come l'abbiamo lasciata politicamente nelle mani di persone che con quattro stupidaggini hanno retto l'illusione di un progetto ai quali milioni di persone hanno creduto e qui non condivido più questo fatto che noi si debba essere distanti da questo e non ricaricarci di questa responsabilità oggi sento che questa è la nostra responsabilità dentro al partito poi possiamo discutere dei finanziamenti quanto siano giusti sbagliati allargarli il fondo unico no fondo unico sì ma il punto principale è che noi dobbiamo avere il coraggio di dare e fare una proposta e la proposta culturale deve essere a 360 gradi non riunirmi solo per capire l'attacco che è stato fatto nei confronti di che cosa di tutto sia degli enti lirici come dei piccoli teatri che non hanno più spazio come dell'editoria o come i circhi la musica la danza c'è tutto quello ma tu lo sai ma scusami se ti interrompo se no diventa difficile no se no paura che diventiamo sempre nel salottino un po così no no ma scusami ma l'abbattimento del finanziamento peraltro lineare i tagli terribili che sono stati fatti ai danni della cultura sono un disegno non è la la improvvisazione ragioneristica questa ragione ma io da anni polemizzavo su una questione il disegno è quando tu gli metti in mano un sistema di potere vedo il saluto vincenzo vita abbiamo discusso per anni su questa cosa quando mi sono trovato a contestare l'idea che tutto fosse solo finanziamento pubblico per un motivo non che non credo nel finanziamento pubblico ma perché ho sempre detto nel momento in cui cambierà padrone questo finanziamento pubblico che è quello che è successo verrà chiuso automaticamente se non c'è un sistema intelligente ma certo sul quale noi costruiamo un'alternativa noi saremo sempre preda di qualcuno se c'è un governo amico viviamo se non c'è un governo amico che cosa è successo ditemi se racconto un'altra storia io non vivo in un altro mondo vivo in questo mondo ma c'è la crisi che abbiamo passato per cui occupiamo il valle facciamo altre cose perché chi è andato al potere e ha capito e sa che noi non eravamo e non siamo mai stati di sostegno ci ha chiuso i rubinetti allora chiedo a tutte queste intelligenze che sono qui perché non si ragiona di trovare un sistema che possa essere quando dicevamo finanziamento pubblico da difendere con le unghie con i denti ma dall'altra parte creare un'alternativa cioè intelligente di apertura a un liberismo chiamiamolo così uso dei termini forse sbagliati non voglio entrare in grammatiche non mi appartengono ma che ci servono a mantenerci vivi se no noi ci riuniamo solo per piangere perché ci hanno tagliato il fuso ma no ma non c'è chiaro che ce lo tagliano il fuso ma nessuno sta dicendo questo siamo tutti comunisti e allora quelli ci tagliano il fuso ma è banale pure dirlo allora siccome da anni quando si parlava di tax shelter io sono stato accusato di essere fascista me le ricordo le riunioni del 92 maddalena una volta parlavamo di tax shelter insomma ma vogliamo cominciare a ragionare di essere noi più intelligenti degli altri e usare in maniera intelligente democratica costruttiva determinati mezzi e farli diventare produttivi non continuare a dire sono i mezzi del padrone no non sono i mezzi del padrone sono i mezzi intelligentemente che hanno usato il cinema inglese il cinema tedesco tutta la grande cinematografia tedesca vorrei ricordarlo degli anni settanta è vissuta attraverso quello la germania usò per anni tax shelter e quindi schroeder e gli altri ecco c'è anche una citazione sul presente quindi ecco questo che voglio dirvi allora tutto questo serve secondo me per mettere sul tavolo della discussione di un progetto molto più ampio dire la salvaguardia di tutto quello che è il nostro valore enorme ma dall'altra parte cominciamo a ragionare in termini anche di intelligente progettualità tu non ami le non ami gli ismi e tantomeno assistenzialismo no perché è il problema è no è quello anche quello non è quello è stato è stato per decenni quello massimo decenni appunto dico ma siccome questo è un paese dove non credi al turismo non è che il talento e le ispirazioni possono essere normalizzati per legge e dire beh in ogni città ci deve essere un gruppo di geni e di talenti il problema non è andare a verificare la veridicità dell'assunto i problemi finanziarli è successo succede me lo ricordava prima un compagno amico cosa come diceva è la qualità delle persone che noi dovremmo indirizzare mettere in questo posto che ci aiuta a migliorare questo ragionamento noi per anni siamo stati dietro al solito sistema e chi veniva messo la cultura o a certe responsabilità erano in un'area di parcheggio perché stava in disgrazia cioè da lì lì fa la differenza sostanziale al bisogno di animatori culturali che non è una parolaccia che lavorano in tutti i sensi non ha mai detto niente nessuno l'ha mai detto allora silvio sì un altro intervento comico no no non voglio abbassare il livello per carità di tensione politica e culturale che insomma è qui no però è fin di natale persa la novità poi in tutto questo si fai fin di natale hai fatto fin di natale hai figli ai famosi figli ai mutui anche no io penso una cosa se posso dire il mio contributo di quelle tre quattro cose che ho capito in questi anni praticando un po' soprattutto il teatro e soprattutto il cinema che credo che prima di capire quanti soldi vengono investiti nella cultura e come e come questi soldi vengono spesi e questo è un proprio la responsabilità primaria che ci dobbiamo ci dobbiamo prendere se posso fare una proposta concreta nel senso che bisogna capire quanti di questi soldi vanno proprio a finire realmente nella produzione artistica quanti di quei soldi che vengono dati per il teatro arrivano poi al allo spettacolo che il pubblico vede in scena e quanti di quei soldi si vedono nei film che poi vengono visti sullo schermo se non si risolve questo problema saremo tutti quanti in un coro abbastanza indeterminato in cui ci sta il profittatore e il talento il genio il giovane genio che non riesce a emergere e oppure il giovane profittatore che vorrebbe emergere lo stesso perché chiaramente nessuna legge può mai sancire la 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 bontà delle intenzioni o del o del talento delle persone e quindi la cosa che mi preme di più in questo momento è pensare in un governo futuro il desiderio ecco di un governo futuro è capire a chi vanno questi soldi e come vengono spesi e che percentuale va negli spettacoli quant'è oggi un 30 per cento un 40 per cento è un po' poco secondo me è arrivato qualche altro dirigente ripartito no lo siamo tranquilli no perché ho sentito un inizio d'applauso e poi cos'altro posso dire credo che comunque il perno fondamentale della nostra indirizzo generale è che poi alla fine solo due le cose che ci possono fare andare avanti come sinistra diciamo solo uno alla ridistribuzione del reddito e su questo è inutile che discutiamo qui mi sembra che siamo tutti abbastanza convinti e la ridistribuzione della cultura per me questi sono i due colonne portanti cioè essere molto ricchi in un paese dove ci sono tanti poveri è una cosa orrenda ed essere molto colti anche in un paese in cui ci sono tanti ignoranti è una cosa orrenda ugualmente una cosa politica io credo che con questa affermazione di silvio orlando noi possiamo siglare questo nostro incontro sempre che massimo ghini non abbia un un aggiunto una chiosa fai una chiosa te senza chiose senza chiose però chioserei così il prolungatissimo applauso di tutte e due le assemblee finalmente unificate dal tema artistico e culturale ci consentono di congedarci e di rispettare con puntualità estrema l'incarico avuto io spero di di essere stati come dire esaurienti nella piccolissima misura che ci era consentita ripeto il la citazione che non voleva essere erudita era semplicemente di comodo la cultura come giacimento è naturale dei saperi condivisi ebbene quello che ha detto silvio è perfetto questi saperi condivisi saranno condivisi da pochi e troppo pochi ed eletti e non sarà un paese civile non sarà un paese moderno non sarà un paese libero allora è perfetto chiudere dicendo così come è indegno avere pochi ricchi in un paese di poveri è altrettanto vergognoso che ci siano pochissimi colti in un paese con troppi ignoranti malgrado loro malgrado la loro volontà grazie a tutti buon lavoro